Dottore, la ricetta di questa torta? Allora, la ricetta non ve la darò mai, ma vi dico, consiglio e mamme hanno aiutato a preparare. Abbiamo usato una pasta frolla, senza lievito perché il lievito non mi piace, della frutta fresca e visto la giornata, visto che faceva così tanto caldo, abbiamo usato la marmellata anziché la crema pasticcera, in modo tale che può durare un pochino di più. I bambini sembrano molto contenti, le mamme di più, a quanto pare, perché si mangiano il dolce e basta. Qualche segreto per la pasta frolla? Segreto per la pasta frolla? Venite a comprarla da me! No, scherzo! Niente, usare prodotti freschi, noi usiamo burro fresco, uova fresche, latte fresco, solo questo. E stare molto attenti alle dosi.